Più sicurezza con un clic sui treni regionali grazie ad un accordo sottoscritto da Trenitalia, Regione e rappresentanti delle Forze dell'Ordine, ovvero Polizia di Stato, Carbinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. Il protocollo illustrato questa mattina a Pescara regolamenta la fruizione delle gratuità per i servizi ferroviari regionali in seconda classe e sui treni oggetto del contratto di servizio e ha lo scopo appunto di fare intervenire le Forze dell'Ordine in caso di necessità. A segnalare alla Capotreno la loro presenza a bordo sarà un'app dove i rappresentanti delle Forze dell'Ordine si saranno precedentemente registrati. L'applicazione denominata Board Support aiuterà il Capotreno a gestire le eventuali emergenze dovessero verificarsi durante il viaggio. La decorrenza del servizio partirà dal 1 giugno fino al 31 dicembre, salvo proroghe. Inoltre potrebbe estendersi come annuncia il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Umberto D'Annuntis. Il nostro intento è quello di garantire questa sicurezza anche su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale. Quindi successivamente andremo a perfezionare altre convenzioni con i gestori del trasporto pubblico locale per fare in modo che sui nostri mezzi ci sia più sicurezza e per fare in modo che i cittadini viaggiano sempre di più sui mezzi pubblici nella piena consapevolezza di essere tutelati.